Musica Buongiorno dal TG Flash, incidente per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina lungo la strada statale 28 tra Imperia e Ponte D'Assio Protagonista un furgoncino che dopo essere uscito di strada è finito in una fascia sottostante, vediamo È stradale questa mattina presto lungo la statale 28 del Col di Nava tra Imperia e Ponte D'Assio Nonostante la spettacolarità del sinistro non si sono fortunatamente registrati feriti gravi L'incidente si è verificato verso le 6.30, protagonista un furgoncino che dopo essere uscito di strada è finito in una fascia sottostante senza coinvolgere altre vetture A bordo c'era un uomo che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, subito dopo è stato trasportato all'ospedale in condizioni comunque non gravi Sono ora in corso le indagini per capire i motivi per i quali il conducente del mezzo ne abbia perso il controllo L'amministrazione comunale di Savona nell'ultima seduta di consiglio comunale ha dato unanime approvazione alla delibera relativa alla proroga dell'affidamento della piscina comunale coperta del prolungamento in piazzale Eroe dei Due Mondi alla società sportiva Rarinantes La struttura resterà in gestione fino al 31 dicembre dell'anno in corso E anche la CGL della provincia d'Imperia è in prima linea per la battaglia per ottenere la riforma se non l'annunamento dei voucher Secondo il segretario provinciale del sindacato Fulvio Fellegara infatti i voucher non fanno che incrementare il lavoro precario Sentiamo Fulvio Fellegara aumentano in modo spropositato i voucher in Liguria I dati sono purtroppo generali non riferiti alla provincia d'Imperia o alle province singole Ma un dato regionale comunque di un aumento pesantissimo Si va in tabaccheria si comprano questi voucher da 10 euro Il governo l'aveva inventati diciamo per risolvere il problema del lavoro nero ma è proprio così? Purtroppo no, poi gli effetti pratici sono molto diversi come potete immaginare 10 milioni di voucher venduti in Liguria dal 2008 ad oggi Solo 3 milioni e 800 mila l'anno scorso Quest'anno la crescita nel primo semestre è del 38% Quindi siamo di fronte a un'esplosione che evidenzia a nostro avviso un vero e proprio abuso Perché purtroppo sono diventati uno strumento per mascherare forme di lavoro irregolare o nero E sono pronti all'uso nel caso arrivi un controllo, nel caso ci fosse un'ispezione E comunque non coprono per intero le prestazioni lavorative Allora noi diciamo che sono uno strumento che va abolito e riformato o addirittura abolito Abbiamo fatto una raccolta firme specifica durante l'anno per promuovere un referendum Per il quale insieme al referendum sugli appalti e all'estensione dell'articolo 18 Chiederemo di votare nella prossima primavera Il tutto a sostegno della nostra proposta di legge Che andrà a richiedere un nuovo statuto per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici Pensando e con un occhio di riguardo ai lavoratori precari Proprio quelli che oggi ricadono maggiormente nell'utilizzo e nell'abuso di voucher Che si sono estesi in tutti i settori Dal turismo al commercio alla pubblica amministrazione Quindi abbiamo purtroppo un utilizzo trasversale anche per lavori insospettabili Anche per lavori che normalmente prima erano a pannaggio di contratti tradizionali E Fulvio Fellegara, segretario provinciale della CGL Sarà ospite questa sera con inizio alle ore 21 della nuova puntata di Punto d'Incontro A breve saranno avviati in Liguria tre concorsi per personale infermieristico Previste circa 5.000 iscrizioni Le graduatorie rimarranno aperte per la copertura a tempo indeterminato Di posti da infermiere per i prossimi anni Sentiamo Per la prima volta in Regione Liguria È in corso la procedura per la realizzazione di tre concorsi pubblici Per infermieri professionali Questa procedura consentirà alle ASL del territorio Di disporre di graduatorie per la copertura A tempo indeterminato di posti da infermiere per i prossimi anni Il coordinamento della procedura Come ha spiegato l'assessore regionale alla salute E vicepresidente Sonia Viale Sarà sotto la regia della Regione A garanzia di una migliore gestione delle iscrizioni Previste in circa 5.000 unità Attraverso le ASL capofila, cioè la 2 per il Ponente La 3 per l'area metropolitana di Genova E la 4 per il Levante Si arriverà a graduatorie Cui tutte le aziende sanitarie e ospedaliere Potranno attingere in maniera condivisa Così da evitare rallentamenti Nello scorrimento delle graduatorie stesse Ed offrire un'ottimizzazione del personale infermieristico Un nostro telespettatore di San Biagio della Cima Ci ha segnalato la presenza di una carcassa di auto Nella zona di Gouta verso Margherita dei Boschi All'incirca all'altezza della vecchia ferrovia Una situazione di degrado naturale E anche di pericolo per i frequentatori dei boschi Il telespettatore si augura che questa segnalazione Raggiunga le istituzioni competenti Per un controllo più selettivo dei luoghi naturali Che offrono momenti di relax e sano vivere E ora alla linea la nostra redazione di Genova Per il consueto appuntamento Con i 120 secondi di notizie Dal capoluogo Ligure Ben ritrovati gentili amici Con il consueto appuntamento con l'informazione genovese Da parte di Imperia TV Partiamo subito dalla cronaca Perché vengono installate delle telecamere Nelle zone a rischio della città Partono dal centro storico E arrivano sino a San Pier d'Arena Sono le zone rosse del crimine genovese Via della città appunto dove le criticità sono molte Come spacci, furti, rapine, risse e prostituzione L'idea è della prefettura insieme alla procura Insomma una mappa realizzata dove poter installare Queste telecamere e poter controllare al meglio Le zone si parte da via Pre Passando per la Commenda Via San Luca Via Quattrocanti San Francesco Via Comele Per poi passare a via San Bernardo Quindi via San Pier d'Arena Via Rolando E lungomare Canepa Delitto di Lumarzo Ci sono delle evoluzioni nelle indagini Perché ci sono tracce di DNA Sul corpo dell'uomo Tracce precise appunto sul corpo di Albano Crocco L'uomo ucciso e decapitato nei boschi alle spalle di Lumarzo Dopo essere uscito in cerca di funghi Il DNA è ben dettagliato ed è stato trovato Sull'abito dell'uomo che appunto è stato ucciso Pare secondo gli inquirenti che sia stato colto di sorpresa Perché dopo aver subito l'aggressione dell'assassino Che appunto l'ha effettuata con un fucile a Pallini Che non l'ha ucciso ma l'ha fatto solamente cadere a terra E' stato dunque aggredito e ucciso con un maceto Una lama molto affilata Con il quale poi l'assassino ha anche tagliato la testa dell'uomo Per gettarlo in un dirupo Passiamo ora all'attualità Perché Genova è già blindata in vista del derby Si parte da Sabot all'ora 18 Dove Marassi appunto è teatro da sempre Di chiusure al traffico per quanto riguarda la viabilità Si va a concludere con martedì In occasione della partita Genova-Milan In una città blindata In una zona, in un quartiere della Superba Assai critica per quanto riguarda la viabilità Da Genova è tutto e da Matteo Sacco La più cordiale, buona giornata Ed ora spazio all'angolo di Daniele Lacorte Che oggi tratta il tema dei maltrattamenti di bambini e anziani L'assurdo e criminale comportamento di operatori sanitari e scolastici Ha indotto la magistratura ad accertamenti sempre più attenti e severi Nuovi dispositivi legislativi prevederanno a breve L'installazione di telecamere nelle strutture per anziani E nelle scuole di prima infanzia ed elementari Si vuole pervenire quasi qualsiasi soppruso Nei confronti dei più deboli E in questo caso di anziani e bambini I recenti fatti di cronaca Hanno visto scolaretti picchietti dalle maestre Nonni e nonnine malmenati da infermieri e inservienti Trasformatosi improvvisamente in aguzzini Le telecamere sistemate in più stanze di istituti per anziani Nelle scuole per l'infanzia di primo grado Hanno permesso di mettere in luce episodi terribili Le immagini non hanno dato spazio alla fantasia Con personale addetto alla sicurezza degli anziani Che menavano le mani e insultavano gli ospiti Per non parlare di maestre isteriche Che tiravano sede sui banchi e malmenavano i piccoli ospiti E storia di tutti i giorni purtroppo Ora il grande fratello, l'occhio magico delle telecamere Entra dalla porta d'ingresso principale In scuole e pensionati per anziani Ma alla luce di quanto è accaduto ieri In una scuola elementare della Spezia Le telecamere avrebbero fatto un buon lavoro Per controllare e verificare Quando i bambini picchiano le maestre Sembra quasi un assurdo E da sempre la vecchia regola giornalistica Fa notizia all'uomo che morde il cane Non il contrario E giunto proprio a proposito Così al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea Del capoluogo dell'estrema provincia Levantina Ligure Ci è finita una maestra aggredita da un suo alunno Ha detto la donna Dopo avermi aggredita mi ha morsicata le braccia e le gambe Poi mi ha tirato la sedia Questa in sintesi la denuncia presentata dall'insegnante alla polizia Dopo essere stata medicata all'ospedale Dove i medici le hanno dato 5 giorni di proniosi A cosa mostrano i confronti della donna o del bambino? Tutto è accaduto in una seconda elementare Non c'erano le telecamere Ma i responsabili della scuola e i bambini della classe Hanno già testimoniato Il piccolo e violento ribelle però Se l'ha cavata con una bella tirata d'orecchie E' troppo piccolo Contro di lui non si possono formulare imputazioni La maestra, 34 anni, siciliana E' una delle tante insegnanti Che per sbarcare il lunario Ha accettato di lasciare la propria terra natale Oltre a disagio All'esiguo stipendio La beffa di essere picchiata Da un suo troppo focoso scolaro Aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito imperiatv.it E sui profili social Facebook e Twitter Grazie a tutti per il cordiale ascolto L'informazione torna questa sera Arrivederci Grazie a tutti